Mi preoccupa invece chi sta facendo questa riforma costituzionale perché è arrivato al governo senza alcuna legittimazione e non si è mai preoccupato di cittadini italiani. Io voglio dare una notizia qui. Nell'ultima legge di bilancio, oltre a tagliare i 50 milioni di euro per i bambini malati di Taranto, che si ammalano per gli effetti dell'ILVA, ieri abbiamo scoperto che i malati di cuore e di ipertensione non potranno più avere cure sanitarie perché sono stati tagliati 15 milioni di euro nell'ultima legge di bilancio. Prima dicono che vogliono aiutarci con la riforma costituzionale e poi tagliano 15 milioni di euro ai malati di ipertensione e di cuore che si dovranno curare a proprie spese. Ma questo è uno scandalo e mette ancora in luce la poca credibilità di Matteo Renzi e del suo governo. Onorevole Di Maio, ma con quale legge elettorale si andrebbe alle elezioni qualora vincesse il no e voi vi scopriste in maggioranza, diciamo così, all'indomani delle elezioni? All'indomani, perdono, del referendum la mattina del 5 dicembre. Questo ovviamente lo deciderà il Parlamento. Io le posso dire che il Movimento 5 Stelle ha una legge elettorale pronta e le posso dire anche che sia il centrodestra che il centrosinistra in questi anni hanno fatto due leggi elettorali, il Porcellum e l'Italicum. Entrambi, una è stata dichiarata già in costituzionale e un'altra è sotto il vaglio di giudizio della Corte Costituzionale. Quindi non sono molto competenti a quanto vediamo nel fare le leggi elettorali. Noi ne abbiamo una, non sarà perfetta, ma l'abbiamo fatta con docenti universitari e cittadini che hanno partecipato e siamo pronti ad approvarla. Quale sarà il prodotto finale? Questo ovviamente io non glielo so dire. Noi ne abbiamo una e siamo pronti a metterla in Parlamento, a presentarla in Parlamento e a farla approvare. La legge elettorale si può approvare in due settimane senza dover tirare a campare fino al 2018, perché c'è una cosa che nessuno sta dicendo. I parlamentari a metà del 2017 maturano la pensione. Sono tutti molto preoccupati di restare in Parlamento fino a metà del 2017. Noi chiediamo nuove lezioni perché siamo gli unici che si dimezzano gli stipendi, rinunciano ai vitalizi, autoblue e voli di Stato e questa roba non l'abbiamo mai toccata. Teniamo le turbulenze sui mercati, c'è grande attenzione da parte di tutto il mondo. Abbiamo letto anche a più riprese i diversi interventi dall'Economist, dal Financial Times e altri come il New York Times per esempio. Rispetto a questo, rispetto alle tensioni che vivremo a livello finanziario, qual è la vostra posizione? Lo sentite questo peso? Beh, c'è un paese fermo da sei mesi perché il Presidente del Consiglio si è lanciato in questa campagna referendaria. Le turbulenze dei mercati non sono dovute al sì o al no, ma sono dovuti al problema delle banche italiane, al problema di Monte dei Paschi di Siena. Monte dei Paschi di Siena è un istituto di credito che è stato utilizzato come bancomat dalla sinistra per oltre vent'anni, si è creato un buco di bilancio di decine di miliardi di euro e si è deciso di rinviare questo problema dopo il referendum come tanti altri problemi in questo paese come la disoccupazione e come l'accesso al credito per gli imprenditori. La nostra proposta e da qui lo voglio dire anche... come dice? La vostra posizione non vi preoccupa in questo senso? Sì, infatti le stavo dicendo. Quello che voglio dire agli investitori, a tutti coloro che sono preoccupati, anche all'estero, che noi abbiamo una proposta chiara su Monte dei Paschi di Siena. Questa banca in questi anni è stata massacrata. Adesso facciamola diventare una banca dello Stato. Abbiamo l'opportunità che MPS sia uno dei brand più antichi al mondo bancari e lo possiamo utilizzare quella banca come una banca pubblica per dare credito a famiglie e imprese in difficoltà. Come esiste in Germania la KFV, in Francia la BP France e in Spagna la ICO. Noi facciamo una banca pubblica per aiutare imprese e famiglie che vogliono accedere al credito. E così salviamo MPS e fermiamo le turbulenze sui mercati. Senta, onorevole Di Maio, ma mi tocca una curiosità. Se dovesse vincere il sì, voi avete già annunciato che i sindaci del Movimento 5 Stelle non siederanno nel nuovo Senato, quello che permette appunto la presenza di espressioni del territorio. I senatori come espressioni del territorio, diciamo così, quindi anche dei sindaci. Ora, francamente, non le sembra uno schiaffo istituzionale un po' troppo forte? Beh, io sono contento nel sapere che i nostri sindaci rifiutano il privilegio dell'immunità parlamentare perché quando i cittadini di quei comuni hanno eletto il loro sindaco non hanno mai detto che volevano dargli l'immunità parlamentare e tantomeno il titolo da senatore. Per due ragioni. Uno, perché un sindaco deve fare il sindaco, non è che deve andare a Roma anche a fare il senatore. E due, perché quel senato non è elettivo. Noi non ci presentiamo alle elezioni delle province perché anche sulle province non hanno abolito le province, hanno abolito gli elettori. In questi anni ci sono stati troppe, troppe leggi che ci hanno tolto il diritto di votare. Province, città metropolitane, adesso ce lo tolgono al Senato. In Sicilia hanno fatto una legge vergognosa sui comuni che dice che un sindaco per essere eletto al primo turno non ha bisogno più della maggioranza ma basta il 40% perché i partiti non avevano più voti per raggiungere il 51%. Siamo in un momento del paese in cui ci vogliono scelte anche di coerenza e coraggiose. E una di queste è che i nostri sindaci non andranno nel nuovo senato. Anche perché quel nuovo senato è molto preoccupante. Passerà il tempo a creare caos. Perché se il presidente del nuovo senato, che sarà a maggioranza PD, anche se noi non lo eleggeremo, non si metterà d'accordo col presidente della Camera dei Deputati, le leggi non si potranno fare e siccome ci sono due maggioranze differenti con la nuova riforma, questi due passeranno il tempo a litigare dalla mattina alla sera e a bloccare il paese. Questa riforma ci fa piombare nel caos, non velocizza il paese.